Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video sempre ad Ascoli Piceno in questo nuovo video recensiremo e assaggeremo le migliori olive ascolane le migliori, proprio il top assaggiamone subito una per sentire il loro sapore buone buone, buone, buone le consiglio proprio di comprarvele le se passate qui al negozio migliori olive ascolane e niente ci vediamo alla prossima